È un grande orgoglio, ci tengo a sottolinearlo, che grazie proprio al coro lirico siciliano quest'anno anche il Teatro di Tindari avrà la sua stagione sinfonica, ma soprattutto anche la lirica perché dopo 30 anni tornerà la traviata il 26 agosto al Teatro Antico di Tindari con la supervisione registica di Alessandro Cecchi Paone. L'orchestra filarmonica della Calabria, il direttore Filippo Arnie, il direttore stabile, questa orchestra meravigliosa e eccellente con la quale abbiamo appena inciso lo Stabat Mater di Rossini per Amadeus, un connubio sicuramente molto felice, coro lirico siciliano e orchestra della Calabria sotto le rispettive guide mia e di Filippo che possono fare veramente musica con la M maiuscola. E poi un altro appuntamento sicuramente importantissimo, il 22 agosto a Taormina, il coro lirico siciliano ha pensato bene, penso di omaggiare il più grande tenore della storia, possiamo anche affermarlo, siciliano, quindi siciliani Giuseppe Di Stefano. Deci anni alla scomparsa, è un evento sicuramente che è ricchissimo di iniziative e anche di un'importanza culturale. Per la prima volta, dopo sette edizioni, verrà consegnato l'Oscar della Lirica, l'International Opera Awards, questa manifestazione ideata dalla Fondazione Verona per l'Arena e quindi da Alfredo Troisi, verrà consegnato proprio a Giuseppe Di Stefano in occasione del premio Di Stefano a Taormina, il 22 agosto. Un grande evento, grandissimi nomi, cavalleria rusticana in forma di concerto, con un cast, perdonatemi, che gli ultimi vent'anni Taormina non l'ha sentito. Posso dire quello che vogliono, ma Taormina è di almeno vent'anni che non c'è un cast di questo livello, in cui la stessa mamma Lucia, interpretata da Elisabetta Fiorillo, Giuseppina Piunti Lola e poi il Tristi Tassi, Mastro Marino con Paralfio, Rudy Park, Torido e Giovanna Casolla, Santuzza. Coro Lirico Siciliano in Pompamagna saremo quasi 80 perché celebriamo il nostro decimo anno di attività, Orchestra e Filarmonia della Calabria in Pompamagna saremo altri 60, una grande serata con grandi ospiti, Gasdia, Ezio Bosso, Nicola Martinucci, Raffaella Angeletti, ne dimentico sicuramente qualcuno, trasmessa integralmente dalla TV di Stato Polacca e Albanese che hanno dimostrato l'internazionalità dell'evento, il premio realizzato dal maestro Turi Azzolina che ritrae Giuseppe Di Stefano in Pagliacci, quindi questo busto, proprio la commedia della commedia, insomma una grande stagione che poi si concluderà il 24 con l'Aida del Mythos Opera Festival che ci vede impegnati come coro e il 28 con la Traviata, sempre a Taormina.